VITAMOZZO Gruppi Telegram fissati nel primo commento. Ok mi raccomando prendete questa attività dopodiché lo andiamo ad avviare completamente in solo è un funny glitch quindi nulla di particolare però ovviamente vi assicuro che è molto divertente mi raccomando mettete tre giri poi confermiamo le impostazioni e ci mettiamo ovviamente a giocare. Dobbiamo fare un giro completo mi raccomando fate attenzione se io vi velocizzo la clip ovviamente però dobbiamo fare un giro completo ok quindi prendere tutti i check ovviamente vi ho messo la clip in modo veloce non importa quale veicolo utilizzate non importa se urtate oppure non fate bene il giro. Quello che poi è importante quando arrivate qua rallentate prendete il check ovviamente del fine giro e quittate l'attività a questo punto ragazzuoli durante il caricamento appena rientreremo in sessione non saremo in prima persona ma saremo completamente invisibili e ve lo dimostro prendendo ovviamente un'arma. Perciò vi potete divertire con i vostri amici ovviamente utilizzando tutte quante le armi potete addirittura ragazzuoli morire quindi suicidarvi o comunque essere ammazzati dalla polizia eccetera eccetera e rimanete sempre invisibili. Quando però ovviamente rientrate in sessione e quindi prendete un veicolo qualsiasi che sia quello del civile o comunque un veicolo vostro lì purtroppo ovviamente siccome è un glitch bug quindi solo del gioco della sessione stessa ovviamente appena prendete un veicolo qualsiasi purtroppo poi ritornerete di nuovo normali. Però ovviamente è molto divertente vedere l'arma che cammina da sola e soprattutto fino a quando non uscite dal veicolo il veicolo praticamente sarà vuoto all'interno quindi vedete un veicolo del civile o comunque il vostro veicolo che camminerà completamente da solo. Quindi è un bug da provare e da provare comunque anche con i vostri amici quindi vi potete anche divertire e provare questo bug e come vedete poi ritorno ovviamente normale. Perciò ragazzuoli è piaciuto questo video lasciate un bel like. Ah ragazzuoli avete notato la novità? Ovviamente sono anche in webcam. Perciò ragazzuoli è piaciuto questo video ditemi cosa pensate della webcam, lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!